Giovanni Buccaro per il dopo Zeman si profila dunque la soluzione interna, la decisione del club arriverà entro la giornata di domani. Ci sarebbe stato anche il consenso del tecnico boemo che ieri è stato operato nella clinica Pierangeli, intervento perfettamente riuscito, Zeman dovrà restare a riposo dai 4 ai prossimi 6 mesi. Nel pomeriggio di ieri Sebastiani e Delicarri hanno parlato a lungo con Giovanni Buccaro che si è detto pronto ad accettare l'incarico, eventuali contatti con Delio Rossi sono stati smentiti dallo stesso allenatore Romagnolo che ha guidato il Pescara in B nelle stagioni 96-97-2000-2001. Serve naturalmente una reazione decisa, evidentemente il 4-0 subito a Gubbio non è servito, a Pesaro altra figuraccia, decimo K.O. stagionale, il quinto nelle otto gare sin cui disputate del girone di ritorno. Contro una squadra in lotta per la salvezza e a digiuno di successi in casa da 4 mesi, il Pescara ha offerto il meglio del suo peggio, centrocampo senza interdizione e impatto fisico, fase di non possesso da brividi, errori difensivi incommentabili. Soprattutto non c'è la minima cognizione di come si dovrebbe marcare. Nelle ultime tre partite altrettante sconfitte, ben 10 le reti subite, appena una realizzata. Di solito i numeri non mentono mai, non è una situazione normale per qualsivoglia avversario, è sin troppo facile bucare il Pescara. Con tutti i limiti, assolutamente legittimo pretendere di più, così invece sembra davvero una squadra allo sbando. Con la sensazione che abbia mollato mentalmente in assoluto la cosa peggiore, molto probabilmente a Giovanni Bucaro l'onere, ma anche la grande chance di risollevare le sorti del Delfino.